Sì, davvero, ma sono contenta a Monza e noi abbiamo giocato già due amichevole, era difficile, è normale, anche in un altro livello, contro Conigliano e contro Novara, ma non vedo loro per iniziare il campionato e giocare qui a Monza con la squadra, perché abbiamo una squadra giovane, ma è una squadra forte, sì, sono contenta. Sì, giochiamo a casa, allora è anche una cosa bella per iniziare e così dobbiamo lavorare ancora tanto per crescere il nostro livello e per facciamo un bel gruppo con un bel ritmo in campo. Sì, sì, è normale, sono contenta perché anche per andare, per giocare, l'All-Star Game, sì, è una cosa speciale, sì.